Come ripristinare il sistema di stampa in macOS. Se si riscontra il messaggio di errore Stampante non in linea o Stampante non risponde sul Mac, il ripristino del sistema di stampa potrebbe aiutare a risolvere il problema. Il ripristino del sistema di stampa elimina tutte le stampanti, gli scanner e gli apparecchi fax nella coda stampanti e scanner sul Mac, che comprende sia i dispositivi HP che i dispositivi non HP. Il ripristino elimina anche tutte le operazioni in sospeso nella coda. Fare clic sull'icona menu Apple, quindi scegliere Preferenze di sistema. Fare clic su Stampanti e scanner. Fare clic con il pulsante destro del mouse nello spazio vuoto dell'elenco stampanti, quindi selezionare Ripristina sistema di stampa. Fare clic su Ripristina per confermare che si desidera ripristinare il sistema di stampa. Se richiesto, autenticare il comando utilizzando la password amministratore. macOS rimuoverà la stampante dall'elenco dei dispositivi aggiunti. Ora è possibile aggiungere nuovamente la stampante alla coda di stampa per risolvere gli errori di stampante non in linea o stampante che non risponde. Fare clic sulla scheda Playlist su YouTube per trovare i video HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale per trovare i video ufficiali del supporto HP. Grazie a tutti.